Adesso passiamo al secondo classificato per la sezione lingua ed è una donna, Maria Rosaria Franco dalla zona di Benevento, non mi ricordo il paese, non mi dire niente, adesso, quest'ora non guardo nemmeno più la carta, complimenti, facciamo consegnare, vieni, vieni, Giuseppe Martino, il nostro membro di Giuliana. Eh, ormai si è scappato proprio, prego, ma smedetelo in mano fino a quando non declamano, quindi il nostro, adesso passiamo ormai alla motivazione. Una stanza per noi due, vigorosa espressione di sentimenti d'amore sotto la spinta di un desiderio forte, i sensi sono presenti in tutta la loro realtà indombrante e pronti all'azione sensibilmente presenti, come un'alerta medio. La lettura è piacevole e coinvolgente nel rispetto del buon scrivere e nei limiti del buon senso. Tanti auguri, complimenti. Una stanza per noi due, dietro la terra della stanza, filtra il sospiro di un tramonto. Vorrei poter fermare il tempo nel cerco del argento e della luna, lasciarmi un mondo tra le mie manzioni, a mescolarmi il sangue con l'anima e i pensieri, a sconfinare con le mani oltre la cuba silvosa dei miei fianchi e con le dita a scivolare sulle mie lune di venuto e ricavarmi le bambini. Io, estesa qui a tutto fianco, vorrei scollare via le nuvole e i rancori dalla cascata dei miei capelli biondi e lentamente ridurare ammorsi, il desiderio, la passione e la poesia. Vorrei che il buio abborgesse ancora con una carezza e l'isordine di questa stanza, per addormentarmi accanto a te di notte con la tua mano nella mia. Grazie. Grazie.